Ciao a tutti, mi chiamo Bianca, ho 19 anni e vivo a Padova. Ho fatto il liceo classico, mi sono diplomata l'anno scorso, mentre quest'anno ho iniziato sempre qui a Padova a frequentare la facoltà di lettere moderne. Nella vita amo andare a teatro e nuotare, e ovviamente la mia più grande passione però è scrivere. Sono veramente molto contenta che il mio racconto ti ascolto sia tra i 25 semifinalisti del premio Campiello e non vedo l'ora che sia il 5 aprile.